stasera carbonara piatto tipico romano italiano romano per prima cosa si pulisce il guanciale questo è il guanciale non è pancetta quindi è proprio il guanciale questa parte qui del maiale friscioline mettiamo dentro ricordate che questa è la parte della guancia non è pancetta no bacon ok adesso prepariamo le uova non esagerate con le uova diventa una minestra anche il pecorino insieme facciamo questo possiamo mettere giù la pasta non molto perché questo è già salato gli ingredienti sono solo questi non c'è panna non c'è ricotta non c'è latte non c'è niente pasta guanciale uova e pecorino e pepe e adesso andiamo a mettere pepe ce ne portate qua un po' insomma parecchio vedete sentire una volta fatto questo lo mettiamo qui e facciamo sciogliere senza non cuocere l'uovo il pecorino si è sciolto si è sciolto vedete guanciale così deve essere si deve asciugare e diventare croccante deve essere croccante mi raccomando croccante vino del lazio è verso mare questo la zona è nettuno quindi proprio mare costa razziale e poi è un vino bianco va bene perché ha una gradazione alcolica molto alta sono 14 gradi per cui dovrebbe sgrazzare bene tutto la pasta scolatela bene grazzo questo è un po' troppo è un gorsale molto grasso ne mettiamo appena adesso l'ho cotta e l'assaggio nel minimo com'è fantastica perfetto anche il vino va benissimo alla prossima